Permesso di soggiorno scaduto da anni. Permesso di soggiorno scaduto da più di due mesi. Il permesso di soggiorno si può rinnovare essendo all'estero? Permesso di soggiorno scaduto da sei mesi. Cosa fare? Permesso di soggiorno scaduto all'estero. Scopri cosa fare. Può succedere che un cittadino straniero con un permesso di soggiorno regolare in Italia si trovi all'estero quando il suo permesso scade e si renda conto della scadenza troppo tardi per rinnovarlo. In tal caso si chiede se debba rimanere all'estero o se possa comunque rientrare in Italia senza problemi, anche con il permesso di soggiorno scaduto. Cosa fare in questo caso? Vediamolo insieme nel video. Permesso di soggiorno scaduto all'estero in limiti di tempo. È possibile superare i controlli alla frontiera solo se il permesso di soggiorno non è scaduto da più di 60 giorni. Come mai? Perché entro questo limite il soggetto è ancora considerato in regola. Cosa fare in caso di permesso soggiorno scaduto da meno di 60 giorni? La prima azione da intraprendere è andare immediatamente al consolato italiano nel paese estero per richiedere il visto di reingresso in Italia. La domanda deve essere accompagnata dalla prova di forti legami con l'Italia, come per esempio un contratto di lavoro o la presenza di familiari nel paese. Per questo motivo è fondamentale che il richiedente porti con sé, oltre all'originale e alla copia del permesso di soggiorno scaduto, altre due cose. La prima è un passaporto valido, la seconda è tutta la documentazione necessaria a dimostrare il motivo del ritorno in Italia. Il consolato, dopo aver ricevuto la documentazione, dovrà richiedere il nulla osta alla questura competente. Se la documentazione viene valutata positivamente, il consolato rilascerà il visto di reingresso per l'Italia. Se la richiesta ottiene un esito positivo, quindi, il consolato rilascerà al cittadino straniero un visto dell'ingresso. Questo consente il rientro in Italia anche con transito in altri paesi Schengen durante il viaggio. Dopo essere rientrato in Italia, dovrai recarti in questura entro otto giorni per richiedere il rinnovo del permesso di soggiorno, portando tutta la documentazione richiesta dalla legge. Permesso di soggiorno scaduto da più di due mesi. A proposito, vuoi portare la tua famiglia in Italia in un mese con il visto turistico? Vi informo che esiste una modalità più rapida per far sia che parenti o amici possano visitare l'Italia. Se fate richiesta di un visto turistico, potrete portare in Italia e rivedere i vostri parenti in solo un mese di tempo. Abbiamo già scritto e pubblicato un video molto utile dove vi spiega come fare? Trovi link in descrizione del video. Quando il permesso di soggiorno è scaduto da più di 60 giorni, la richiesta del visto del reingresso non è possibile, salvo due eccezioni. Se sei rimasto bloccato all'estero a causa dei gravi motivi di salute tuoi o dei tuoi parenti fino al primo grado, oppure del coniuge. Se sei stato impegnato nel servizio militare del tuo paese. Articolo 13,4 del TPR 394 del 99. In entrambi i casi, il richiedente deve presentare al consolato una coppia di tutta la documentazione che sostiene la sua richiesta, insieme al permesso di soggiorno scaduto e al passaporto valido. Il consolato trasmetterà la copia alla questura che valuterà la situazione e fornirà il proprio parere. La questura esaminerà quindi la richiesta e fornirà un parere favorevole o contrario sul rientro in Italia. Solo dopo aver ottenuto questo documento, il consolato potrà rilasciare il visto dell'ingresso. Permesso di soggiorno scaduto da sei mesi, cosa fare? Nei casi in cui il documento è scaduto da più di sei mesi, uno straniero ha la possibilità di richiedere tramite un avvocato un'autorizzazione speciale dall'ufficio immigrazione della questura. Questa autorizzazione consente di presentare una richiesta di rinnovo in ritardo, purché siano giustificate le ragioni che hanno impedito di rispettare i tempi previsti dalla legge. Permesso di soggiorno scaduto da anni. Se ti trovi all'estero o sei tornato a casa e il tuo permesso è scaduto da molti anni, non è più possibile rinnovarlo e probabilmente dovrai ricominciare da zero per ottenere un nuovo permesso. Il permesso di soggiorno si può rinnovare essendo all'estero? La risposta purtroppo è no. Non è possibile rinnovare il proprio permesso di soggiorno mentre si è all'estero, ma è necessario essere presente in Italia. Spero che questa guida ti sia piaciuta, condividila anche con i tuoi amici a cui potrebbe servire. Ti consiglio anche di iscriverti al nostro canale YouTube Noi Stranieri, dove troverai tanti video interessanti, come per esempio la guida su come scaricare i certificati online gratis, come fare la richiesta per cambiare residenza in 72 ore a Roma e per il visto per le cure mediche in Italia, l'iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale e la guida su come fare la carta di identità elettronica a Roma in sole 72 ore. Trovate tutti i link in descrizione. A presto!